Dovremmo essere online Un attimo raga che vado a guardare Datemi just one moment Si sto streamando Si Un attimo Oh Palmixi sei Bella bro Bella Bella Vediamo come si vede Guarda solo come si vede Solo giusto qualche secondo raga Allora intanto direi che possiamo andare online Abbi attività Preferite Ma raga E' questa quella di Beastard Si si Raga oggi andiamo a provare La Ma chi è che fa sto casino qua Allora tiriamo via intanto la radio Tiriamo via la radio Dai dai vai 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 Ok Allora Mettiamo Condizioni meteo Sereno Ora Mezzogiorno Classe Super Mettiamo Mi fa pubblicità E io condivido la live Ti faccio pubblicità bro Io di solito non faccio iscritto Cioè Non sponsorizzo Ecco In genere questo Però comunque Cioè se volete Andate pure a vedere il canale di Palmixi L'unica cosa Se mi puoi dire Se si vede qualcosa o no Perché Dalla mia connessione Non riesco a capirlo Perché non mi carica niente Allora Poi mettiamo Ora Mezzogiorno Traffico Si Rivede il sospetto No Veicoli personalizzati No Perché io non ce li ho Aiuto giocatori in coda No Scia Si Bloc visuale Nessuno Distrugge l'ultimo No Radio Conferma impostazioni Sono solo io in live Eh lo so Anche se solo tu Si 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 vede Ok Perfetto Grazie mille Ehm Bene Adesso aspettiamo Che entra un po' di gente Però come faccio A non far arrivare Il mio microfono A Quegli altri lì Che stanno giocando Non vorrei che dopo Si rompessero le palle Mmm Beh non lo so Si rompono le palle da sola Invia Mi chiamo per mix Si sei Dai bro Ok No Perché avevi sessione No 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 Non ci siamo Non ci siamo Non ci siamo Voglio più gente Più gente Allora Probabilmente tu adesso Non vedi niente Però Per inviartela Come cazzo ci fa Trofei Amici Stai seguendo Richieste amico No Cerca Ehm Almi Almi X 6 Eccolo qua Invia 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 Ok Forse Ok No Perchè mi buttato in strada Vediamo di farla ripartire Attività Alie attività Preferite Tante 400k race Bene Qua bene Ho già utilizzato 132 mega Però finchè non arriviamo a 4000 Io sto in live Allora Da punto No Allora Da punto a punto Clash super Mezzogiorno Sereno Traffico Sì Vedete Sospetti Sì No Sì Sì No No E no Confermi Impostazioni Ciao Dimitri Bella Bella Dimitri Mi metti Modellatore No Non ne ho bisogno Non ne ho ancora bisogno Di altri In video automaticamente Ti do l'assassino attuale L'assassino attuale No Mia mia Ti ho fatto io Dello stesso livello Va bene Aspettiamo Bene 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 E ora aspettiamo Anzi Vado a vedere come ci vede la live Tanto magari entra qualcun altro Anzi qualcuno Si che non èvole Si che non è damage Nessuno Ho setecento iscritti Wow wow mi piace ok si vede anche abbastanza bene per adesso che non sto facendo niente si sente da schifo e quello ci sta no non ci sta però va bene intanto aspettiamo che arriva anche altra gente dimitri axel ma che è gta si si è gta si 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 niente raga ora c'è da aspettare l'eternità perchè io non ho una crew e niente ci vogliono l'eternità i rainbow no volevo comprarmelo però costa un botto tracks 5 bella brogi bella pete zio bella pete da 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 Niente non entra nessuno Dai ma veramente Ok che è anche un orario un po' bastardo Sto qua però insomma Non entra nessuno Sennò raga possiamo provare a creare una gara Proviamo a creare una gara Vediamo vediamo Creatore Ok Conosci No non ho rainbow per mixi L'avevo già detto anche prima Eeeh Conosci Orzon Sarà orizon Comunque no Crea una gara Proviamo a creare una gara Gara stunt Gara terrestre Proviamo una gara stunt Proprio una cacatina Ok Così Sì Così ci muoviamo In tondo Così ci muoviamo Nelle asci Ok perfetto Eeeh Dettagli gara Titolo Vabbè quello lo mettiamo dopo Foto lo mettiamo dopo Tag di ricerca Piazzamento Posizione a luogo di attivazione No la facciamo qua Andiamo su radar Ah non ce lo mette No no Tira via Tira Vabbè Lasciamo stare Ma veramente Danilo Shock Ciao bro Oggi Si sente il rumore Terribile Eh lo so Lo so Ma quello è un problema Del microfono Io devo riuscire a capire No Da nord No Andiamo via Per di qua Volevo andare Non proprio qua Cambia livello Di zoom Della mappa Ah ok Ho capito Così Così siamo in alto Siamo in alto Siamo in alto Vai Oddio Adesso ci vuole l'eternità Andare fino là Non c'è Un modo più veloce Dopo la live Ti faccio i miei aiuti Con le donazioni Sì No Non dimmi che mi fa Oltrepassare la montagna Cambio visuale Zoom veloce Impossibile cambiare Qui la zona Deve essere sgombra Ok vai Oh Ok Un po' alla volta Un po' alla volta Ci prendiamo la mano Adesso ci batta Ancora la testa Sali Sali Grazie Grazie Ok Ho capito Dove siamo Dobbiamo mettere All'inizio E io all'inizio Cerca Non metterei qua Perché Mi è sempre piaciuta Questa stradina E benissimo Metterei qua Facciamo una roba Che E il pez Ah ciao pez Bella pez Che parto Ma da sto piazzare qua E dopo Sì Ok Quindi La partenza E qua Non aspetta Ecco Mettila qua Che dopo Dobbiamo mettere Anche lo spazio Per tutte le macchine Mettila anche Un po' Più In qua Ok Mettila qua Piazzamento Posiziona Luogo Di attivazione Ha risolto Alla Fes Ha risolto O compersa Alla fine Come Ma niente Che lui è un coglione Seleziona Luogo Di attivazione E qua Sì Lì Lì lo voglio Che lo attivi Che mi piace Lì Allora Posiziona La ruota Di attivazione Messo Visual La sala D'attesa Mettiamo Questo No Maledetto Albero Così Ok Poi Mettiamo Checkpoint Numero Massimo Di giocatori Aspetta Metti 30 Gara Stunt Sì Tipo Di griglia Media Grande Piccola No Metti Grande Teoria Ci dovremmo Stare Tipo Vediamo No No Non ci stiamo Metti media Sì Ci stiamo Forse Non so E se metti piccola In teoria Sì Però dopo piccola È da fare con le moto Vabbè Lasciamo stare Mettiamo Media E Riduciamo Riduciamo Di un tot Riduciamo Di un tot Nicolò Tsunami Ciao O posso chiederti una cosa? Sì sì Vai Chiedi 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 pure Non ti preoccupare Chiedi pure Diminuisce Diminuisce ancora Un po' Ok Ora ci siamo Però Cambio visuale Ruota Ok Piano 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 Ok Viene proprio Indietro No Cazzo Piano Piano Alla Cina ti con lo zoom Vai piano Ok No Sono un deficiente Ma dio signore Santissimo Forse possiamo metterci anche qualche posto in più No Così Devo tenerla così Viene proprio indietro Ok E la piazzi lì Perfetto In genera Tu Sai come funzionano i comandi di minecraft? Sì Sì Abbastanza Posiziona checkpoint Stile Circolare Standard Metti circolare No Cazzo ho fatto Basta Checkpoint Forse stile checkpoint Troppo vicino ad un altro checkpoint Però prima devo posizionare dei vesti e accessori Uh che figata Mamma mia come si invirgola male Ok Per server intendo Sì Più o meno Più o meno sì Pista stunt Pista rialzata No Tubi stunt No Blocchi stunt No Ramp stunt Sì No Perché me la piazzi così? Sei stronzo forte E allora Come faccio a girare la visuale? Ehm Ok Allora Mamma mia che roba Un po' avanti Un po' avanti Un po' avanti Un po' avanti Poi mettiamo Ehm Questo? Proviamo So già che viene fuori una cagata Però proviamo No Infatti non si può Devo portarmelo in piano Prima Cosa è che? What? Cos'è sta roba? Co? No Grandissimo Sì Buonanotte Ma che robe sono queste raga? Ok Ok Vediamo se riesco a buttarcela No 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 Eh Eh Forse Devo soltanto Girarla un po' Fatta un po' da cazzo Perché è fatta un po' da cazzo Ah DJ Luke Bella Bella Gianluca Bella Allora Vediamo Se riesco A fare una roba un po' decente Ah magari Ecco Magari non così Ok Ok Mi sa che così è fattibile C'è un palo in mezzo Ma è fattibile Proviamo Perché non posso mettere prova? Piazzamento Checkpoint Mettiamo un altro Lo mettiamo Lo mettiamo qua Ok Posso provarla? Sì No Ma devo farla per forza Questa gara Questa macchina qua No perché devo prendere Un po' più di velocità A parte che così È facilmente Facilmente Cioè lo superi anche senza fare il giro della morte No 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 Così no Ok perché io avrei un server su minecraft PE penso che sia E sto cercando da un po' di settare Dei determinati comandi Al gruppo admin E quando faccio Eh Server turbo No Oltre al turbo Dovrei metterlo un po' più distante Che non si possa citare così Cioè se no veramente Viene fuori una schifezza Quindi dobbiamo mettere tipo delle barriere Elimina elementi Elimina No non voglio eliminare tutti gli accessori Se faccio così Mi elimina tutto No 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 Mi elimina tutto Se ci passa Accessori Ah ok Lo prende Lo riprende Ok perfetto Perfetto Più o meno Ok Vieni un po' in qua Magari vediamo Se riesco a fargli Sorpassare Il palo Senza che mi rompa E qua si invirgola male Quindi potremmo Metterlo Preve male E gli metto Qualche turbo Si Ok quindi Questo lo metti qua Però No Elimina elementi specifici Ora imposta la mappa Eh Io voglio eliminare elementi specifici Ma non tutto Il comando è stato eseguito Però Al gruppo admin Il tp continua a non funzionare E inoltre Mi chiede anche Il world Cosa è che Devo mettere Perché c'è scritto Di mettere Eh no ma Cioè Pensavo in tdc Roba tipo Dentro Serve Ma non come creatori No quello Non so come si fa Allora Il checkpoint Lo posso lasciare lì Però gli dobbiamo mettere Degli altri accessori Accessori Stunt Template Barriere Vediamo Qualcosa Di potente Ah Raga Ok 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 Mi avvicino Questa è Questo lo mettiamo qua, così nessuno in teoria può citare, ok, e questo, vediamo se riesco a farmelo riprendere, teoria barriere, panchine, questo, ok l'ha ripreso, perfetto, mamma mia come mi stai rompendo i coglioni tu, nessuno, asso verticale, goglia, direi, grazie amigos,hongli ma come faclio a sbordarlo? Cancella la rotazione? No. Aspetta Cambia visione Ah ok 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 Ah C'è il barbatrucco raga Ok ok Ci sto già capendo qualcosa di più Asse verticale Perché non va in più giù Mamma mia raga Il terreno deve essere pianeggiante Ok No va ca Va ca Ok Bene 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 Così ci dovremmo essere Consenti Accatastamento Si Opzioni avanzate Boh Che opzioni avanzate ci sono Posizione con coordinate Rotazione con coordinate Blocca accessorio Scorri Perché ci sono degli altri No 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 basta Mi va bene così Mi va bene così Quindi quello lì lo metti Poi Segnale istante C'è il turbo Ok C'è il turbo Vediamo di Piazzarlo Bene Qui Ok 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 Un po' a caso Piazzacene 30.000 Così uno Prende una bella velocità Non so perché l'ho messo lì Però va bene Ok Quindi Facciamo una prova Qua Mi sa che bisogna metterci qualche altro turbo Invece no Ok Ok Perché mi dice che mi sono saltato un checkpoint Ok No comunque si può fare Esci dalla prova Un attimo raga Un attimo raga No che cazzo ho fatto Sono stato un coglione Perché devo vedere come siamo messi con l'internet Ok Ok Abbiamo altri 3 giga e mezzo da usare Più o meno Allora Piazzamento Poi mettiamo 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 Checkpoint Ehm no Accessori Turbo no Template Ah ok ho capito cosa sono i template Panchine no Panchine Boi Galleggianti Cabine Cantiere Container Scatole casse Cassoni Macchinari Rampe Rampe Vediamo che rampe ci sono Ah queste rampe qua Eh Qualcuna qua mi sa che può fare comodo Ma giusto una o due Questa è un po' 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 Vabbè c'è la roccia Lasciala li Ok Vediamo se si riesce a fare una roba del genere Eh no Questa è messa male Questa è messa male Questa va girata un pochettino di più Questa va girata un pochettino di più Com'è che si andava in su o in giù? Non mi ricordo più Ok Mettino di ascia orizzontale Vai un po' più in giù Sì Vai un pelino più in giù, no? Non ci vai più in giù? No Bastarda Vai un pochettino di più in giù Vai un pochettino di più in giù Vai un pochettino di più in giù Andiamo 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 Consenti Accatastra Ah sì va bene Ma qua ce la fanno anche solo con le rocce E ce la metto Appena qua Toh Guarda se ti prendi una super sportiva ce la fai cazzo Ah oh in Ter, nasil si il si ok, posso così va bene? V-v-vaffanculo Io non ce la metto Puoi fare benissimo anche No No Oh mio dio Basta Ci siamo fottuti Ah no aspetta Ah si Queste qua non ce la metto Ci lascio solo queste Tanto non gli servono Ok Una volta fatto questo Rifacciamo continuare Un po' super di qua Quindi mettiamo un po' di checkpoint Uno qua Uno qua Tira su la visuale Che devo capire dove andare Dove porta sta stradina Qua c'è il tunnel Qua c'è il tunnel Ehm questo Ehm questo No Cos'è sta roba No 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 Elimina Ehm da questo Da questo vieni qua Ci facciamo mettere questo qua Questo qua Questo qua E questo qua Ok E da qua dopo Facciamo qualcosa di particolare Ok Ok Indietro Accessori Ehm ci mettiamo Fista stanta No Fista rialzata Sì Allora adesso ti faccio vedere io come lo utilizziamo Mister Sousher Salve Salve Fista rialzata No No Questa va bene Rosso Sì Mantieni sempre rosso Asso verticale Sì Rieniamo un po' Fin qua Sì Ok Tanto là sopra Non mi importa dove va Basta che non intraccia Il resto E va bene Facciamo Opzione avanzate Posizionale dopo coordinate Sì Vieni avanti Vieni Vieni C'è pezzi Prima c'era Ma adesso è andato via Perché deve studiare Ok Perché? Però Vabbè A caso Adesso lo butti un po' in là E lo affondi Un po' Vai Fonda 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 Vai 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 No No Non basta Non basta Vai 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 Ok Così ci siamo A parte che non puoi citare Cioè Il massimo che puoi fare È non fare Il Salto della morte Vorrei fare uno scherzo Refico finito male A pez Sì ma no Oggi no Accessori Tubi stanti Eccoli qua Un bel Ci mettiamo un bel tubone Porca troia Medio Lungo Questi qua Megagalattici Mettiamo blu Ehm vabbè L'inclinazione ce la diamo Subito Una bella Inclinazione potente Di quelle che fanno paura Quindi Vai Provo a posizionarlo qua E andiamo a provare La vista Wow Bene Non gira neanche Ok Ok Non si può provare Con un'altra macchina Questa fa schifo Ragazzi Preferisco provarla Con la mia LG Non ci credo Ma devo provarla Con quello schifo Di macchina Veramente Che adesso esplode Ma perché Ah forse perché Forse Sapete perché Detali della gara Standard Veicoli disponibili Tutti Classe per definita Super Super Veicolo Under Bullet Cita Entity Inferno Svacca Voltic Terismo Erza Intorno Zilis T20 Banshee 900 Sultana RS Reaper FMJ X80 X80 811 Tyrus Penetre La Italy La Italy Prendiamo la Italy Ora Attuale Condizioni meteo Tino Mezzogiorno Condizioni meteo Sereno Traffico No Anzi Sì No Sereno Livelli sospetti No Radio No Assolutamente Io la godio La radio Guardi Dimmi che non c'è No No Non posso Mettere No Metti Visuale La scelta Consenti Potenziamenti Velocità Sì Assegna RP Stunt Bonus Sì Visuale Stunt Manuale No Disattiva Aiuto Giocatori In coda No Va bene Siamo a posto Così Prova Oh Ecco Siamo Forse però qua Sarebbe meglio Che metto qualcosa Su cui schiantarsi Vai 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 Ok Vai Ok Ok, perfetto Ci può sfondare questa roba? Perfetto Non spiegge un cazzo Quindi ci metterò dei Probabilmente Ok, non si può tornare indietro Se vai dritto Fai così però Perfetto Se no ci metto qualcosa per non tornare indietro Semplicemente No, ma non spingepi di così Ok, perfetto Esci dalla prova Quindi, piazzamento Accessori Dubistante? No Segnare istante? No Accessori istante Tipo turbo Ok No, che c'è fatto? No, 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 no Dov'è turbo? Eccolo qua Ok Ok L'ha messo fuori? Non ci credo No, non l'ha messo fuori Veramente me lo dà dentro Per piacere Che dosco Ones Esta gara De mierda Questa gara Non sa da fare Né ora Né mai Ok Ok, facciamo una prova Va, bisogna lasciare l'acceleratore, magari tirare un po' il treno Per non fare un cazzo Prendi il turbo Bene No Ma non c'è tipo la possibilità di partire dall'ultimo checkpoint, no eh Io la devo sempre provare tutta Qua lo lasciamo andare Vediamo dove atterra, ok Ok Riusciamo ad aver capito bene dove atterra Qua, più o meno Quindi facciamo Piazzamento Accessori E ci mettiamo quelli belli lari E ci mettiamo qua Oh Bello lago Non ci metti questo qua E poi qua No, perché? Ecco così E da qua andiamo su ancora Magari sempre con un po' più di inclinazione Cazzo però costa tanta inclinazione rada No, cazzo non è tanta Vai giù, pian pianino Ok Ancora un po' più inclinato Ok Ok Bella, qua siamo quasi dritti Ci sta Guardarlo Spera non ci siano scalini perché sennò viene fuori una schifezza Intanto li mettiamo un po' sfasati Ok Saliamo ancora Ok E adesso Ci possiamo mettere Quello che io volevo mettere prima No Lampestante, no, no, no No, che stupido Eccoli qua Adesso ci possiamo mettere queste No, quella griglia, no No E questa che cazzo c'è No, no, quella con semafro, no No, no, no Più lunga No, non c'è più lunga Ah Va bene Va bene No, sì La mettiamo un po' inclinata No No, non va inclinata Che bella Sì, un po' chettino, sì Ma sì, ma mettila inclinata Che cazzo te ne frega Porco due Porco due Ma no Goldone Sei un gioco goldone Ecco E me l'ha messa là per terra Ma io ti odio Vieni qua Vieni qua Metti laggiù Non mettermela là Mettimela qua Giuro che ti farò del male Prima o poi Giuro Vediamo 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 Giuro Mettiamo di qua Allora Allora ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo se può dare fastidio all'altro. No? Ok. Proviamo così. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. No, 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 li vado in casa a frente. Ok. Vai. Se la puoi fare. Se la puoi fare. No, devi prendere il turbo quando te la fai. Ok, ok. Se la puoi fare. Se la puoi fare. Devo fare. Devo fare. Ebbene. Ah, sta già cadendo nel vuoto. Assurdo. Beh. Oh, un giga. Abbiamo raggiunto il giga, raga. Ci sei. Ci sei. Perfetto mi dice se ci sono. Io. Gli direi anche di sì. Vediamo cosa dice lui. Eh, sì. Non mi apre il cazzo. Vediamo se è online. In teoria lo sentite voi. In teoria. Però oggi c'ho la mia connessione che va un po' da cazzo. Per cui. Eh. Insomma. Insomma. Piazzamento. Piazzamento. Vieni qua, vieni qua. Vieni, 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 vieni. Vieni. Ok. Allora. Ok. Metti. Accessori. Blocchi stanta. Ramp stanta. 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 Stanta complessi. Mese. No. Signori stanta. Accessori speciali. Stanta. No. Dubi stanta. Pista rilassata stanta. Eccola qua. Riripotenza. No. Extra corta. Corta. Rettirina. Curva. No. Questa. Un po' grandina, ne? Un po'. Vabbè. Facciamo un rettilineo potente Bene Poi ci mettiamo Una curva Poi un'altra curva No così C'è la curva dall'altra parte Metti la casa come viene No 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 Sì. 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 Mamma mia, mi sta facendo impassire. Ah. Sì. No. Sì. 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 No. Metti roba corta, roba corta, roba corta, roba corta, roba corta. E adesso gli mettiamo qualche spirale. Pista stunt, no, no. Dove sono i tubi? Vediamo tubi stunt. Eccoli qua. Vediamo se c'è qualcosa di potente. Siamo ancora qua. Sì. 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 Così No Qua ci mettiamo Un alt Sì No, non voglio Quella con Ok, così E adesso qua Ramp, stanzi, segnali, accessori No Maldito Che cazzo ho fatto? A caso che ho messo lì sopra Vabbè Lasciamoli lì Mi sembra di averne messo abbastanza No, ecropastia folle Posizione a punto di lancio No, aspetta Ho sbagliato Ecropastia folle Posizione a punto di lancio Mettiamo Qua Posizione visuale Non so Non so dove metterla Se partiamo Da qua Non so Potrei anche farle coincidere Do Mettilo qua No, a posto E adesso qua Gli metti Degli altri Turbo Come minimo Quindi Accessori Accessori Turbo Fista Turbo Che non si possono mettere Gli metti accessori Raggiunto Cosa? No Che Yella Che Yella Comunque raga Tra poco Finisco la live Visto che È da un'ora E venti Che sono in live Mettiamo Non so Proviamo così E dopo basta Facciamo l'ultima prova E Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No... Oh... 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 No... Oh... 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 E lo mettiamo qua... Alla fine... Ok... Così... E basta... Siamo a posto... Bene... Non posso salvare... Perché? Non è disponibile... Eccorre stabilire un titolo... Ah... La... Las... Wegas... Non so perché... Però... Mi è venuta in mente così... Ok... Salviamo... Descrizione... Mh... Dopo... Dopo Gigio... Boh... Salvando la tua gara... Ok... Bene... Esci... Ok... Oh... Raga... Che roba... Io direi che... Per questa live può essere tutto ragazzi... Se vi è piaciuta... Lasciate un bel like... Se avete qualcosa a dirlo... Non ci lasciate un commento... Se non siete ancora iscritti... Iscrivetevi... Noi ci sentiamo presto... In un nuovo video... Barra... Live... Ciao a tutti ragazzi... E adesso può spegnere... Come si fa... Interrompi... La trasmissione...